Allora, di solito quando ci sono queste cose si fanno anche dei discorsi, va bene? E io faccio innanzitutto un discorso di benvenuto e devo ringraziare innanzitutto le persone che mi sono a fianco qua. Adesso mi sono dimenticato una cosa che però è importante, è mettere su questa cosa qua, che è la fascia, allora sì. Allora, qui ci sono tre persone accanto a me, io ho visto che mi conoscete e allora va bene così. Ho il dottor Lione che è il vice prefetto, voi non sapete probabilmente cos'è la prefettura, ma sapete cos'è una provincia, che è la provincia di Vicenza, ecco. La provincia di Vicenza ha un ufficio importante che rappresenta lo Stato nel nostro territorio. E lo Stato è rappresentato proprio dal prefetto. Allora abbiamo il vice prefetto che è il dottor Lione e che è una persona che tra l'altro ha già lavorato con noi e che ci ha dato una mano su alcune situazioni. Io sono proprio contento che sia venuto perché ci siamo sempre incontrati a Vicenza e rappresenta lo Stato. Perché come vedete io ho una fascia che non ha il colore di Sant'Orso, non ha il grigio e rosso che è quello della croce là sul... È una fascia tricolore. Perché? Perché è vero che io rappresento la comunità di Sant'Orso, giusto? Il suo sindaco di Sant'Orso, però è all'interno di una comunità più ampia che è la comunità nazionale, che è l'Italia. E allora tutti i sindaci italiani non hanno il colore del loro paese o della loro città, ma hanno il colore dell'Italia, perché noi facciamo parte di un contesto molto più grande che è la nostra nazione. Ed è con onore che noi qui abbiamo i rappresentanti in un certo senso... No, noi in un certo senso abbiamo i rappresentanti del governo italiano. E allora intanto ringraziamo il dottor Lione. Poi dobbiamo ringraziare il vostro dirigente. E' mica facile, sapete, fare il dirigente adesso, perché lui deve correre tra qua e più o meno, perché è dirigente di due istituti comprensivi. Vi garantisco però che è una persona preziosa. Voi in un certo senso lo vedete magari lontano come quello che comanda, ma è una persona preziosa perché queste cose si fanno perché il dirigente e i vostri insegnanti ci credono. E io devo ringraziarlo, dottor Chiarello, perché tante volte, quando abbiamo dei problemi anche difficili, si assume sempre delle responsabilità. E così la nostra scuola è sempre stata una scuola di ottima qualità. Infine dobbiamo ringraziare Mattia Piazza, che oggi per l'ultima volta mette su la fascia, magari la metterà fra qualche anno se deciderà di fare, che ne so, questo servizio che faccio io. Quindi ringraziamo anche Mattia, che per due anni è stato sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Poi vedete delle persone qua attorno, no? Allora qui ci sono delle persone che fanno da tutti quelli che alcuni di voi faranno adesso, e cioè ci sono i consiglieri comunali, ci sono gli assessori che sono anche consiglieri comunali, e là in fondo quei quattro persone là, no? Ecco, quelli sono i dirigenti del nostro comune, quelli che guidano i vari uffici. Per dire, se si rompe una finestra a scuola, deve venire l'unico maschio che è Fabio Satterini. Mentre se c'è da decidere sulla mensa o cosa fare, invece è l'ultima femmina che ha dottoressa Sperotto. Ecco, tanto per spiegarvi che questa è una realtà complessa, ma che ha nella figura del sindaco e dei consiglieri comunali le persone elette dai nostri concittadini che ci dicono va bene, va bene, voi dovete guidare il paese. Il secondo aspetto della fascia è un altro. La fascia non è una cosa personale. non è una cosa personale, io non è che alla domenica metto su la fascia e vado a spasso per il paese così dico, ecco che passa il sindaco. No, è un segno di servizio, un segno di rappresentanza, tanto che qualche volta lo mettono su anche gli altri, in rappresentanza della nostra comunità. È chiaro che quando si fanno le campagne elettorali ognuno corre per vincere, però fatta la campagna elettorale è deciso tutti insieme chi è il rappresentante di tutti, tutti insieme ci si aiuta per guidare il paese, mantenendo anche le proprie idee, ma tutti insieme. È quello che farete voi, dopo scopriremo chi è stato eletto o coloro che sono stati eletti, perché le cose poi si fanno insieme, una volta deciso la forza della democrazia è quella che si faranno comunque le cose insieme, perché c'è un rappresentante di tutti che va rispettato, ma questo non lo fa per sé, ma lo deve fare al servizio di tutti quanti. Questo è lo spirito di questa avventura che avete iniziato. Ringrazio assolutamente gli insegnanti, perché credo che prese dai loro programmi, dalle loro attività, hanno sempre dedicato grande sforzo per guidarvi in questo processo, però credo anche che questa è una lezione di democrazia che si impara di più con la concretezza che non con i libri. E al fine, si dice sempre ultimi ma non ultimi, insomma comunque alla fine, ringraziamo tutti voi ragazzi e soprattutto chi si è messo in gioco. Ecco, io passo adesso la parola al dottor Pione che dà il suo saluto. Grazie.